Il dialetto è sempre vivo nella città di Fano e lo dimostra il fatto che le prime due compagnie che si sono esibite al Politeama hanno aggiunto una data non programmata per soddisfare le tante richieste di biglietti arrivate dal pubblico. Ora, archiviata con successo anche la commedia del Gaff, la rassegna Cianfrusaglia continua con lo spettacolo dei Comediant che presenteranno il 14, 15 e 16 marzo parlementanza La Grazia, il loro ultimo lavoro in due atti diretto da Marco Lucertini con l'aiuto regia di Serena Romiti. Dopo tre mesi di prove, gli attori sono pronti a calcare di nuovo il palcoscenico con uno spettacolo frizzante, originale e divertente. Una famiglia normale, un commercialista che una mattina come tante altre si veste per andare al lavoro, per andare in ufficio ma non riesce a fare il nodo alla gravata. Il gesto più semplice, più normale di un commercialista, quello di farsi la gravata diventerà così un problema enorme. Questa famiglia sembrava proprio Tanza La Grazia, invece qualcosa di particolare, di strano c'era, fino ad arrivare al punto che si scopriranno malviventi in casa, sparatorie, delle cose molto molto esilevanti. Esilevanti. Dai, tutto? Pronti, pronti. Via, ora un po', scorta. Prima però... Beh, oh. Devo dirvi anche che aspetto un bambino. Eh no, c'è la miseria adesso, tocca aspettare che a me l'uomo può bagnare. La compagnia che ospita al suo interno attori dai 10 ai 70 anni di età vanta una storia di 14 anni di successi, tra cui la vittoria al Festival di Varano con la stecca Vien d'Allegne di Paola Maggi, che ha vinto poi il premio come migliorattrice. Per vedere invece l'ultimo spettacolo dei Comediant, che andrà in scena da lunedì, sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita al Politeama di Fano al costo di 12 euro, a partire da venerdì 11 marzo, dalle ore 17 alle ore 19. Non vi resta altro che venirci a vedere. Va bene, va bene, avete capito? Occhio a chi è scherzo, eh? Ah, avete capito! Oh, se mi incasso ben bene, è so bello per niente? Eh, avete capito, sì. È so bello per niente, se mi incasso ben bene. Ma guarda che si venga tra così, tranquilli, ciao! Non guarda l'uomo per niente!